Esistono luoghi che meritano di essere visti, luoghi che devono essere vissuti almeno una volta, per le emozioni che trasmettono, per la bellezza che hanno intorno. Immerso in uno splendido panorama tra natura, arte, storia e tradizioni, sorge Feudo San Martino, il luogo ideale per rendere sempre speciali i giorni più belli e indimenticabili della vostra vita. Un angolo di paradiso nell'entroterra siciliano adatto per festeggiare ogni tipo di ricorrenza, grazie all'esperienza e alla maestria di chi vi seguirà, proponendovi menù raffinati nella loro semplicità. Feudo San Martino dispone di ampi giardini, dove si affacciano spaziose sale e si propone di fare assaporare uno stile di vita fatto di natura, tranquillità e quiete. Feudo San Martino, turismo rurale, ristorante, ricevimenti, Contrada San Martino, Caltanissetta, telefono 0934 56 88 17 335 60 11 089. info at feudosanmartino.it. Feudo San Martino, dove la natura ha fermato il tempo.